Faccio questo video perché mi sembrava doveroso riapparire dal momento che sono sparita totalmente da Youtube e anche da Facebook nonostante cercassi sempre di aggiornare. E' stato un periodo un po' burrascoso tra alti e bassi, è stato un periodo che ci ha scombussolato tutti in famiglia, perciò la mia assenza è stata dovuta principalmente da questo, oltre al fatto di non avere mai un attimo di tempo, non trovare mai il momento giusto per incastrare questa parte di giornata, dove mi metto qui tranquilla e vi spiego come sta andando. La mia assenza è dovuta principalmente al fatto che è venuto a mancare un elemento molto importante della mia vita, un elemento essenziale, ho sempre detto che la mia più grande paura era perdere le persone che amo e questo è accaduto appunto qualche settimana fa, è venuto a mancare il mio nonno paterno che non era semplicemente il mio nonno paterno, era colui che insieme alla mia nonna mi hanno cresciuta, hanno cresciuto me, hanno cresciuto mia sorella, abbiamo sempre vissuto in stretto contatto con loro tutti i giorni, tutte le settimane, tutti gli anni, estate, primavera, autunno, inverno, in qualsiasi occasione, ci accompagnavano a scuola, ci venivano a prendere, quindi il mio nonno non è stato soltanto un nonno, ma è stato un papà praticamente e chi ha la fortuna di avere dei nonni così presenti può capire il mio stato d'animo nell'aver perso una persona tanto importante della mia vita. Nonostante ci sia stata questa brutta perdita in famiglia, è successa anche una cosa, anche questa è un'aspettata che ci ha totalmente sconvolto, tanto quanto la perdita del nonno che comunque è avvenuta in maniera totalmente improvvisa, non so come dirvelo, c'è quest'altro avvenimento che fortunatamente non è un avvenimento catastrofico insomma, sotto un certo punto di vista si può anche dire che sembra quasi il destino a volte che ci mette lo zampino, perciò pochi giorni prima, due giorni prima per l'esattezza, due giorni prima che mio nonno se ne andasse, sono venuta a conoscenza di una cosa, non so come dirlo, praticamente sapete che ho una famiglia numerosa qui, ho tanti cani, ho gatti, ho i roditori, insomma... e a fine gennaio, inizio febbraio, insomma, in quel periodo lì, si dovrebbe aggiungere, non riesco a dirlo, continuo a impappinarmi, si dovrebbe aggiungere un nuovo elemento alla famiglia, un bipede per la precisione, non sto parlando di galline, né di oche, né di qualsiasi altro volatile bipede, ci sarà un piccolo, un bimbo, probabilmente, una bimba, insomma, adesso ancora non lo sappiamo, sì, insomma, per fare, per farla breve, io e Marco aspettiamo un bambino, non avete idea della fatica che ho fatto a dire questa cosa, anche perché non ho fatto neanche poca fatica a dirlo in famiglia, nonostante l'avesse saputo poco, pochi giorni prima della morte del nonno alla famiglia di mio padre ho dovuto dirla, ho dovuto dare la notizia solo dopo il brutto avvenimento, perciò diciamo che non è stato proprio il momento migliore, però il destino ha voluto così, non l'abbiamo cercato, non era nei progetti, almeno non adesso, anche se i miei genitori o comunque mia madre se lo aspettava, perché io ci ho sempre molto scherzato sull'argomento, se fosse stato per me l'avrei fatto forse anche prima, però non era il momento giusto e probabilmente non lo è nemmeno ora, ma c'è, quindi va bene così. Perciò nulla, io ho fatto una fatica enorme a dirvi questa cosa, nonostante io ci pensassi di farlo da giorni, ma non ho mai trovato il momento giusto e perciò, nonostante il mio aspetto un po' trascurato, come potete notare, mi sono detta che era questo il momento per farlo e per dirvelo. Sono entrata nella settima settimana, sono a 7 settimane più 3 giorni, quindi è ancora piccolo e tutto, nonostante qualche disturbo sto anche abbastanza bene. E nulla, spero di fare altri video con più tranquillità, perché il pensiero di dirvelo così su due piedi non... Raja! Non potevo iniziare un altro video se non facendo questo, senza questa premessa non sarei riuscita a fare altri video, perciò sono contenta di averlo già, di averlo fatto e non preoccuparmi nei prossimi video di dovervelo annunciare in un video così, a caso. Perciò nulla, spero di mostrarvi presso anche la piccola Debbie, perché se la vedeste adesso non la riconoscereste, è cresciuta un sacco e... Boh, non so più che cosa dire, spero di caricare presso un altro video. Baccio a tutti, ciao!